Perfetto, allora buon pomeriggio a tutti, a chi è connesso e a chi eventualmente si connetterà e poi a chi chiaramente guarderà la registrazione. Allora intanto mi fa piacere sapere che insomma a questo servizio di vostro gradimento ci saranno ulteriori novità tra un po', credo entro questo mese, quindi dopo le festività molto probabilmente andiamo con ordine, innanzitutto avremo due webinar, per cui questi due webinar saranno direi fondamentali per farvi capire qual è il meccanismo che sta alla base anche del sistema che abbiamo costruito. Dopodiché si sta portando avanti un discorso di collaborazione con alcuni broker che appunto mi daranno la possibilità di fare questi webinar e di eventualmente anche incrementare la platea, però di queste cose poi ne parleremo dopo le feste. Il primo webinar si dovrebbe tenere martedì prossimo, quindi il giorno dopo Pasquetta per intenderci, mentre il successivo abbiamo deciso di metterlo a fine mese. Inizialmente la decisione era stata quella di fare un primo webinar questa settimana e l'altro appunto a fine mese, però siccome sono argomenti quelli che andremo a trattare nel webinar che serviranno, diciamo che il filone sarà lo stesso e quindi meno tempo passerà tra un webinar e l'altro, più facile sarà per voi anche memorizzare quello che è l'argomento sul quale andremo a focalizzarci. Quindi saranno appunto i primi due webinar di una serie, poi mensilmente vi farò sapere appunto le date precise che potranno variare, quindi non abbiamo un programma prestabilito proprio perché cercheremo anche di andare incontro alle esigenze un po' di tutti. Allora, intanto stavo guardando lo schermo grande perché stavo osservando i grafici. Come detto, direi di iniziare con l'analisi, oggi non abbiamo per il momento appuntamenti importanti dal punto di vista macroeconomico. L'Eurogruppo era molto atteso, ve l'ho scritto nell'articolo, è stato rimandato alla giornata di domani, per quale motivo? Perché diciamola tutta e imballo il futuro dell'Europa, dell'Eurozona, perché abbiamo una netta contrapposizione tra i paesi del nord, Olanda e Germania in primis, che sono contrarie al rendere il debito di ogni singolo Stato comune. Potrete anche capire il motivo, chiaramente ci sono Stati che hanno debito più basso e sotto controllo, altri Stati come l'Italia che ha un debito più alto e quindi chiaramente quelli che l'hanno tenuto sotto controllo non hanno alcuna intenzione di andare a condividere il debito. Però questa è una situazione straordinaria, emergenziale come dice l'Italia, e quindi diciamo che l'intento dei Corona Bond è quello di cercare di rendere il debito comune in maniera tale che i soldi possono arrivare senza particolari restrizioni, senza rischio dell'attrica e quant'altro. Questo appuntamento è stato rimandato domani, quindi probabilmente il pomeriggio sarà un mercato tra virgolette relativamente tranquillo. Lo possiamo intuire anche dal fatto che se andiamo a vedere, guardate ve lo faccio vedere, gli indici vedete che sono tornati in territorio positivo. Ieri è stata una giornata altalenante per gli indici. Come ho scritto nell'articolo, se era arrivati a un guadagno del 3% nell'arco della giornata, quasi tutta la giornata, poi in chiusura, proprio sulle notizie che arrivavano dall'Eurogruppo, c'è stato un calo e quindi abbiamo visto come gli indici poi americani abbiano chiuso in rosso. Stamattina partenza in rosso, però adesso vedete i future che sono positivi, questo sta favorendo anche una positività sia del DAX sia del nostro Fuzzimib e quindi diciamo che in questo momento la situazione da questo punto di vista sembra abbastanza tranquilla e mancando appunto l'Eurogruppo, probabilmente il mercato sarà regolato da altre dinamiche, le dinamiche ormai le conosciamo in questi giorni, stiamo parlando ripetutamente del coronavirus e poi dobbiamo anche considerare i verbali della Fed che verranno rilasciati alle ore 20, verbali all'interno dei quali non dovrebbero esserci sostanziali novità. Il meeting, lo ricorderete, emergenziale si era tenuto il 15 marzo e da lì poi è stato annunciato tutto un pacchetto di misure eclattanti da parte della Fed, quindi probabilmente non ci saranno grosse novità, probabilmente quelle misure le abbiamo già ampiamente scontate, stiamo continuando a scontarle, per cui non mi aspetto grandissima volatilità, però mai dire mai. L'altro appuntamento importante è quello delle 16 a 30 con le scorte di petrolio, anche questa settimana è atteso un incremento delle scorte di circa 10 milioni di barili in più, la settimana scorsa eravamo arrivati a 13 milioni e passa se non mi ricordo male, era stato un incremento veramente da record. Qui siamo in attesa del meeting di domani, quindi vedremo se l'OPEC+, quindi Russia, Arabia Saudita, troveranno un accordo sulla riduzione della produzione, si parlava di 10-15 milioni di barili e in questo momento la speculazione sul petrolio sta comunque sia continuando. Allora, partiamo dall'eurodollaro, perché l'eurodollaro vedete che, quindi partiamo dai cambi principali, l'eurodollaro vedete che avevamo avuto un, tanto non so se qualcuno ha qualche richiesta, lo può scrivere eventualmente in chat, disattivate i microfoni perché magari se tenete i microfoni aperti si sentono rumori in sottofondo, quindi durante la registrazione può essere un problema poi per chi ascolta la registrazione. Pertanto vi chiedo se avete qualche domanda di scriverla qui in chat su Zoom, la trovate nel pannellino di controllo dove c'è scritto more con i tre puntini, se ci cliccate trovate in alto proprio l'opzione chat, altrimenti mi potrete scrivere su Telegram e riusciamo tranquillamente a vedere un attimo quello che volete chiedermi. Vedo, no, non ci sono vostre domande, per cui direi che possiamo continuare l'analisi. Dicevo che in questo momento quello che possiamo dire dell'euro-dollaro è che le... scusate ma non vedo più la mia webcam ma vedo quella di Eugenio. Allora... aspettate un attimo che sto controllando le autorizzazioni. Eccoci qua, ok, è entrato Massimo, io mi rivedo, per cui possiamo riprendere l'analisi. Dicevo l'euro-dollaro. 1,08 come vedete ha rappresentato un livello molto molto importante da cui c'è stata una bella ripartenza al rialzo, della quale abbiamo anche discusso. In questo momento diciamo che l'euro-dollaro sembra aver recuperato un po' di smalto, più che altro è debolezza di dollaro. Se dovessimo superare l'1,09 ci potrebbe essere la possibilità di un allungo verso l'area di 1,10, 1,10, 2. Quindi siamo in attesa in questo caso, siamo in attesa e vedremo quello che ci dirà il mercato nell'arco della giornata. In questo momento fermi, dal mio punto di vista non c'è nulla da mettere in macchina. Australiano contro dollaro, ben più interessante perché qui siamo arrivati, vedete, su un livello molto importante, l'area di 0,62 che è già stata testata nella giornata di ieri. Oggi abbiamo una candela inside che si sta formando. Vedremo se ci sarà la forza di andare a rompere questo livello perché l'eventuale rottura, guardateci, potrebbe già riproiettare verso l'area addirittura di 0,66 e poi addirittura verso 0,67 o 0,68. Quindi livelli molto molto importanti che consentirebbero operazioni veramente rilevanti, però in questo momento direi che è bene stare un attimino tranquilli e aspettare pazientemente perché poi, ripeto, queste sono operazioni che possono dare dei rapporti rischio-rendimento veramente alti. Allora, questo è l'australiano, stiamo parlando in questo caso di valute legate all'andamento delle materie prime e sapete che il petrolio è appunto una componente fondamentale anche nell'andamento di queste valute sia del canadese in primis, sia dell'australiano e del neozelandese in secundis, per cui da tenere assolutamente sotto occhio queste valute anche nell'ottica del meeting di domani. L'euro-dollaro l'abbiamo visto, passiamo a vedere la stellina contro il dollaro. Per quale motivo? Perché anche la stellina vedete che c'è stata la correzione. Qua addirittura possiamo intravedere una flag e questo è molto importante. La flag è un pattern di continuazione del trend, in questo caso stiamo parlando di un trend rialzista, per cui se a sua la disegno è così capite anche che cos'è la flag. Allora, guardate qua. Questa è a tutti gli effetti una flag, tradotto in italiano una bandiera, perché qua praticamente l'impulso rappresenta l'asta della bandiera. Se dovesse rompere questo livello, secondo me, si potrebbe accelerare e raggiungere 1,25. Chiaramente dobbiamo aspettare la rottura giornaliera, perché qua siamo su un grafico daily, però se vogliamo andare a vederlo su quattro ore, quindi valutare un'eventuale rottura già anticipatamente rispetto a quella daily, vedete che in questo momento abbiamo una candela che sta spingendo con forza, però questo livello lo possiamo affinare meglio sul quattro ore, perché se io vado, vedete, ad affinarlo meglio sul quattro ore, ci rendiamo conto che in realtà la rottura non è ancora avvenuta, sta eventualmente per avvenire e vedremo se alle ore 15 ci sarà questa rottura. Il sistema sta iniziando a segnalare questa opportunità, quindi assolutamente è da tenere sott'occhio. Il livello, vedete, qua c'è una resistenza, in area 1,24 siamo circa, quindi non siamo distanti da 1,24, mancano circa 32 pips, per cui volendo si potrebbe anche impostare un'operazione intraday per andare a prendere una trentina di pips verso il livello di 1,24, anche perché qui sul grafico a quattro ore c'è un'altra piccola flag che è stata rotta, per cui secondo me questa potrebbe essere un'opportunità già sfruttabile, molto molto interessante. Questo per quanto riguarda la stellina. Neozelandese valgono più o meno le stesse considerazioni che abbiamo fatto sull'australiano, perché anche qua siamo vicini a un livello molto importante che è quello di 0,60 e mezzo, però vedete come stia facendo fatica a superare 0,60 che è un livello tondo, una cifra psicologica, per cui ecco, dobbiamo tenere conto anche dei numeri tonde, ricordatevelo sempre. In questo momento, fin tanto che non bucchiamo quel livello, io non valuterei nessun tipo di operatività. Continuiamo con il dollaro americano contro il dollaro canadese e qua la situazione si fa interessante, vedete come siamo arrivati sul livello di 1,40. Allora c'è stato il falso breakout, il ritorno sopra il livello e in questo momento, oggi c'era stato già un tentativo di nuova ruttura, però abbiamo avuto una reazione al rialzo, quindi livello molto importante, anche questa è una cifra tonda, quindi vedete tornano sempre le cifre tonde. Se dovessimo buccare il livello, anche in questo caso al ribasso, sarebbe molto 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 interessante andare a strutturare un'idea di tipo ribassista. Per quanto riguarda il dollaro yen, niente da dire, siamo nella fase di lateralità che abbiamo visto ieri, quindi qua passerei dritto perché non c'è nulla da segnalare. Andiamo sull'S&P 500 perché, come vedete, sta provando a riportarsi a ridosso dei 2.700 punti, ieri siamo arrivati addirittura ai 2.736, quindi siamo arrivati perfettamente a quella resistenza che avevamo individuato come target rialzista successivo ai 2.630, siamo all'interno di quest'area, vedete l'abbiamo rotta, retestata e adesso stiamo provando a partire al rialzo. Quindi attenzione perché il pomeriggio potrebbe riproiettarci nuovamente verso 2.736, assolutamente un'area da prendere in considerazione per un'operatività di tipo rialzista. In questo momento il trend resta rialzista, su grafica 4 ore si vede molto molto bene. Stessa cosa per quanto riguarda il DAX, solo che qui, va detto, siamo stati rispinti dai 10.500 punti. Quindi qua poi abbiamo tutta un'area di resistenza tra i 10.500 e i 10.700 che potrebbe andare a catalizzare il prezzo. Questi potrebbero essere i target rialzisti molto molto interessanti. Fuzzimib, stessa cosa, siamo a ridosso di 17.500, l'eventuale rottura qua aprirebbe degli scenari molto interessanti che possiamo andare a valutare sul grafico daily. Vediamo un po' che cosa ci dice il grafico daily. Guardate, l'eventuale rottura di 17.550 addirittura potrebbe riproiettarci verso livelli molto molto importanti. Stiamo parlando, va detto, di questo minimo di inizio gennaio 2019. Ricorderete insomma che c'era stato tutti quei picchi di volatilità cavallo tra fine 18 e inizio 2019. Quindi questo livello ce lo possiamo segnare. Avete visto che corrisponde anche a un livello di tipo tondo, quindi una soglia psicologica all'area di 18.000 punti. Quindi vedete che anche qui abbiamo già dei target di riferimento. Il successivo eventualmente potrebbe essere questo doppio minimo che vediamo intorno all'area dei 18.000 e 4. Quindi abbiamo già dei riferimenti molto molto importanti per quanto riguarda anche il nostro Fuzzimib. Torniamo sul grafico a 4 ore e vediamo un attimo il gold. Il gold che si mantiene lì, si mantiene lì, l'oro non ci sono particolari variazioni rispetto a quello che abbiamo visto i giorni scorsi. C'è stato un affondo ribassista ma per chi fosse ancora in posizione lo stop comunque è distante perché l'abbiamo messo sotto 1.640 per cui c'è ancora la possibilità di andare a rivadere secondo me 1.680. Quindi l'opportunità rimane ancora decisamente valida. Petrolio è sostanzialmente invariato oggi rispetto alla giornata di ieri, però vedete come ieri abbiamo avuto una discesa importante, in questo caso in atto speculazione pre-meeting. Ripeto, le voci dicono di un accordo molto importante tra Russia e Arabia Saudita e questo chiaramente potrebbe andare a spingere il petrolio con violenza al rialzo. Quindi in questo momento gli operatori sono fermi, chi aveva chiaramente speculato al rialzo sulle news della scorsa settimana è arrivato a 29 dollari che era il nostro livello di resistenza settimanale, ha preso profitto ed è uscito. Per cui adesso direi che la situazione è evidentemente in una fase di stallo, siamo a metà circa tra i 29 e i 20, siamo a 23,85 e quasi 24. C'è un po' di tendenza ribassista anche oggi. Evidentemente le scorte potrebbero incidere anche sull'annamento del petrolio che se dovessero uscire effettivamente positive 10 milioni, abbiamo detto, di barili rispetto alla scorsa settimana, chiaramente si tratterebbe di un dato che andrebbe a indebulire il petrolio, anche se, lo ripeto, il meeting di domani è molto importante e quindi può darsi anche che ci sia un picco di volatilità ma che poi il movimento rientri rapidamente. Questo è quello che ci si potrebbe aspettare. Attenzione al VIX perché il VIX sta continuando, vedete, ieri è risalito, è risalito a fine giornata ed è coinciso con il callo delle borse di cui abbiamo detto inizialmente, però vedete che oggi sta scendendo, ci teniamo al di sotto dei 50 e del 51 soprattutto che è una resistenza settimanale, il fatto che stia scendendo, vedete che sta perdendo 3 punti circa, quindi il 3%, potrebbe effettivamente portarci a un ulteriore rapprezzamento delle borse e chiudiamo con l'obbligazionario, ricordiamoci la correlazione del rendimento decennale, questo è il decennale americano, inverso rispetto alla quotazione del dollaro, vedete che il rendimento sta salendo anche oggi, ci stiamo riavvicinando a 0,80 per cui ecco il dollaro se salgono i rendimenti obbligazionari tende a indeboirsi, quindi questa è una correlazione che stiamo osservando in questi giorni e che sta funzionando molto bene, quindi questo ci lascia presagire anche per oggi un ulteriore indebolimento del dollaro, però vedremo se questo andamento verrà confermato poi nel corso del pomeriggio. Quindi ricapitolando, le opportunità più interessanti dal mio punto di vista riguardano la sterlina e il dollaro americano contro il dollaro canadese, che poi sono quelle che ci hanno già allertato, per cui le seguiremo nel corso del pomeriggio, se dovessero esserci delle news chiaramente ve le darò all'interno del canale come sempre. Io adesso vi ringrazio e ci aggiorniamo nel canale, vedremo anche quelle che saranno le scorte di petrolio e quant'altro. Buon pomeriggio a tutti.